Allora noi per cercare di fare comunicazione giustamente parliamo di cose serie come sono queste cose qua, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ma siamo anche curiosi perché ci interessa sapere qualche aneddoto, qualche curiosità, qualcosa che è successo soprattutto nel contesto Solar Champions League perché sappiamo che insomma in poche parole è cosiddetto così, avete combinato di tutti i colori. Sì 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 sì, adesso l'anno precedente che è appena passato è stata la prima edizione, è stata veramente molto bella perché poi adesso noi personalmente all'interno della nostra comunità solare di Forlì, che siamo una delle tanti gruppi di medicina, siamo arrivati terzi, quindi per noi è stato un anno particolare, c'è stata la prima azione sul podio di Imola che ha sempre un po' un sapore speciale indipendentemente dal fatto che uno possa essere appassionato di Formula 1 o meno, diciamo è stato molto molto bello perché è stato secondo me un modo molto furbo di mettere diciamo in contatto tutti gli stakeholders, per stakeholders intendo aziende che hanno potuto concretamente usufruire anche di benefici fiscali e poi non mi addentro oltre perché non è la mia materia, e di persone che come le spiegavo prima in modo molto furbo e smart con dei piccoli premi, con dei piccoli riconoscimenti che a livello economico avevano un valore molto basso, però era diciamo giustamente per stimolanti, hanno diciamo cercato di educarci sul corretto utilizzo dell'energia, quindi tante volte è possibile magari, come dicevo anche prima, semplicemente andare un po' in maniera furba impostare degli elettrodomestici negli utilizzi di maggior uso, tant'è che io da un anno a questa parte sono anche diventato orgogliosamente possessore di una auto elettrica, quindi ho ulteriormente implementato anche il consumo in questa maniera. Si sono creati dei legami tra di voi cittadini della stessa comunità solare o di diverse comunità solari e vi sentite diciamo integrati in queste comunità? Sì sì certamente, nel senso anche la competizione che citava lei prima è sempre una competizione positiva, nel senso che cerchiamo tutti insieme di rimanere nella stessa direzione, cioè di migliorare i nostri consumi energetici, con la comunità solare di Forlì noi ci abbiamo già avuto un paio di incontri ed è molto bello perché al di là dell'incontro e delle relazioni personali che si possono creare, in prima persona uno di noi può giocare un ruolo primario di, come posso dire, di primo influencer, eccomi passi il termine, per raccontare che cos'è la comunità solare, per esempio abbiamo avuto diversi eventi dove anche noi come comunità di Forlì, all'interno di Forlì stessa, abbiamo avuto la possibilità di divulgare un po' quello che è la nostra mission, la nostra vision e la cosa molto bella è che un po' gli amministratori della comunità energetica di Forlì hanno cercato, la comunità solare di Forlì hanno cercato di coinvolgere tutti, quindi tutti noi abbiamo avuto un po' la possibilità, ovviamente se uno voleva, di portare un po' la sua storia personale.